bene sono le tre e mezzo di martedì ieri abbiamo armato la parca siamo all'inton bay abbiamo fatto nafta abbiamo fatto acqua e stiamo andando ad ancorare sono le sei di mattina siamo partiti mezz'ora fa da linton bay e abbiamo avuto un piccolo incidente e qui un lancora ma risolto pare e qui ovviamente usciamo a motore perchè siamo contro vento è una navigazione non sempre simpatica perchè di bolina per fortuna non guardo solo però oggi in particolare il commercio fa un bello buon agosto che si chiama delle letture per andare da stare a Giziana Giziana, siamo partiti insieme dalle Canarie e dopo tre anni eccoci qui. Siamo a cena sull'isola. Allora, siamo qui, dicici me, ospiti di Raul, con Alfredo dopo tre anni ci siamo rincontrati, tre anni di corrispondenza intensa, ci siamo rincontrati di qua dell'oceano e stasera pesce che è cucinato da Raul, l'isola è fantastica. Com'è stato questi mesi qui in Panamá? Bellissimo, bellissimo. Questa è la condizione del tempo, non so più da quanto tempo sto qua, non so se più... perché so che non ne devo andare ma non me ne voglio andare. Poi loro fanno un charter fantastico con Giziana, la loro barca. Questo è un annuncio pubblicità progresso. Siamo a Cicimè dopo tre giorni. Siamo a Cicimè dopo tre giorni. di riposo e recupero, abbiamo riparato il pulsante dell'ancora, abbiamo fatto molti bagni, fatto il pane. Oggi ci muoviamo, andiamo verso Green Island di conserva con i nostri amici Alfredo e Valentina del Giziana. Siamo a Ciccimè. 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 Grazie a tutti 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 Pancho, è encantato, Pancho Italiano? Italiano, sì Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Ciao Ciao